Buonasera, faccio a fare un po' il mio figlio come si è combinato, se sta prendendo la partita Napoli-Juve, Napoli-Rubbendus, 2-0, quando vinciamo 2-0, faccio come si è combinato, aspetta Michele, Michele Popò, ma dimmi una cosa, ma cosa stai guardando? La partita del Napoli Sì, e dimmi una cosa, che vogliamo dire ai nostri tifosi azzurri che stanno a casa e ci guardano, ci seguono sempre, che gli vogliamo dire? Buonasera, siamo forza Napoli, sempre, lungo e lungo, perché tutto riesco, siamo Munez, Enrico Tanca, forza Napoli Grande Michele Grande Purtroppo è così, la vigna si torce la parceria Eppure dal padre, sempre forza Napoli Sempre, comunque, dove, perché tutto riesco, pure il padre, è sempre Munez Ciao, e forza Napoli Grazie 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 Grazie.